Cari fratelli e sorelle nerazzurre, sono sempre Don Gigi Inter. Innanzitutto, cari fratelli e sorelle nerazzurre, ringraziamo il Signore per averci permesso di vincere anche il derby. E che derby! Avevo detto, avevo chiesto di ripetere quello che era successo con la Lazio. Perché, tre gol dei nostri attaccanti, tre gol dei nostri attaccanti, stavolta due gol di Lautaro, uno di Lukaku, l'altra volta due di Lukaku, uno di Lautaro. Quindi, cari fratelli e sorelle nerazzurre, è giusto e doveroso ringraziare sempre il Signore perché è avvenuto quello che noi speravamo. Detto questo, cari fratelli e sorelle nerazzurre, oggi pomeriggio alle tre, allo stadio San Siro, o se preferite allo stadio Meazza, si disputerà la partita Inter Genoa. Poi, ehmè, in settimana ci sarà la partita con un Parma e sappiamo benissimo che nostro Signore, come vi ho informato, non si occupa delle partite infrasettimanali, a meno che non sono delle coppe europee, perché giustamente non può stare a seguire il calcio per ogni cosa. Durante la settimana, se c'è l'infrasettimanale, lui giustamente si occupa di altro. Quindi, mi auguro che, credo, giovedì contro il Parma, i nostri ragazzi riescano comunque a portare a casa la partita. Giochiamo contro una squadra che, ahimè, è nei bassi fondi della classifica. Viceversa, torniamo alla partita di oggi, partita molto, molto difficile, anche se sulla carta sembra facile. Ma non dobbiamo basarci sulla gara dell'andata, che abbiamo vinto sì 2-0, ma anche con l'altro allenatore, il Genoa ci ha messo in difficoltà. E abbiamo dovuto sfruttare proprio al massimo le occasioni che abbiamo avuto, perché non è che ce ne hanno lasciate poi tante. Detto questo, cari fratelli e sorelle, iniziamo la nostra richiesta al Signore per i nostri giocatori. Partendo da Andanovic, chiediamo al Signore che ce lo mantenga così come l'abbiamo visto con il Milan, perché se Andanovic para, come l'abbiamo visto con il Milan fino alla fine del campionato, non diciamo nulla, non diciamo nulla, però, ecco, ci siamo capiti, cari fratelli e sorelle Merazzur, dopo aver fatto la richiesta al Signore per Andanovic. Adesso la facciamo per la nostra difesa, scrigna, ne avrà i bastoni che stanno facendo molto, molto bene. Quindi, preghiamo il Signore affinché non faccia ammonire bastoni, o se dovesse essere ammonito non succeda quando oramai siamo abbastanza tranquilli, perché dover fare a meno di bastoni, è vero che se ci sono gli altri due chiunque entra può fare bene, però più tardi è e meglio è, visto che il nostro giovane giocatore è diffidato. Mentre invece, fortunatamente, per ora scrignano i devrai non sono ancora entrati in diffida. Quindi la prima richiesta al Signore era appunto quella di evitare cartellini gialli al nostro giovane difensore. La seconda richiesta al Signore è far sì che loro tre domani, anzi oggi, oggi, alle 15, riescano fino alla fine della partita a mantenere la porta di Andanovic invariata, invariata, inviolata, scusate, invariata. Beh, vabbè, ogni tanto mi confondo anch'io, cari fratelli e sorelle Merazzola. Detto questo, andiamo a parlare dei nostri due esterni. Ahimè, oggi pomeriggio non ci sarà a Kimi. Giocherà a Darmian, l'usato sicuro. Quindi preghiamo al Signore che l'usato sicuro faccia una partita da sei e mezzo, tranquilla, senza patemi, anche se temo non riuscirà a fare quegli scatti e quelle azioni che il marocchino ci regalava sempre oramai, perché aveva preso ormai possesso di quella fascia, mentre all'inizio aveva combinato anche qualche mascello. Veniamo a Perisic, preghiamo al Signore, come sempre, che ce lo mantenga così com'è, perché Perisic in questo momento sta giocando veramente bene, quindi speriamo che da qui, alla fine del campionato, prosegua a giocare così bene. Quindi preghiamo al Signore che ce lo mantenga. Veniamo ai nostri tre centrocampisti, cari fratelli e sorelle Merazzurre, Brozovic, Barelli ed Eres. Come sempre la richiesta al Signore è che Brozovic e Barelli non sbarellino, non si inveperiscano, non prendano dei gialli inutili perché tra l'altro sono tutti e due diffidati e ci manca solo che li perdiamo tutti e due nella stessa partita. Poi ci toccherà giocare con Vidal e Gagliardini insieme ad Eriksen e io mi sento già male. Quindi va bene se uno la prende e verrà sostituito da qualcun altro, ma tutti e due per Conte sarebbe un problema. Quindi preghiamo al Signore che se proprio, proprio, deve capitare che scatti il giallo, non scatti il giallo per tutti e due, perché sennò sarebbero dolori. Per quanto riguarda Eriksen, che ce lo conservi così come sta giocando adesso, con un po' più di grinta, come ci sta piacendo, e con la classe che comunque già conoscevamo. Il guaio è che mancava di, scusate il termine, tazzimma. Veniamo, veniamo ai nostri due attaccanti, come già richiesto al Signore. Gli chiediamo semplicemente che vadano avanti a fare tre gol a partita, in due, naturalmente in due, non uno solo. Due gol uno, uno l'altro. Due gol uno, uno l'altro. Due gol uno, uno l'altro. Un po' per uno, che non fa male a nessuno. E se partiamo con i tre gol dei nostri attaccanti, siamo belli, felici e contenti. Naturalmente non possiamo pretendere che succeda sempre. Però se per le prossime due partite ci sono già state, altre tre, quattro partite, mi fanno tre gol in due, saremmo veramente, veramente felici. Vero, Signore? Bene, cari fratelli e sorelle nerazzurre, come sempre per rafforzare le nostre richieste al Signore. Andiamo a fare la preghierina, quella che Don Mario Inter aveva creato e io ho ripreso, anche perché ormai il cardinale Mario Inter, in attesa di sostituire quello che ce l'ha, si sta occupando di altre cose e non ha più tempo per stare a fare preghierine e quant'altro. Quindi, ahimè, vi dovete accontentare di questo pretino che adesso si toglie il cappello, mostra la sua scarsa crinitudine come sempre e andiamo a dire la preghierina che nostro Signore ci ha tramandato duemila anni fa e che io continuo a cambiare alla bisogna per la nostra amata Inter. Andiamo a leggere e pregare. Padre nostro Inter, che sei nei cieli nerazzurri, sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno e fai tornare possibilmente anche quello dell'Inter. Purtroppo anche quest'anno non potrà essere come nel 2009-2010 perché quello sarebbe tanta grazia a Sant'Antonio ma noi ci accontentiamo per quest'anno di vincere lo scudetto che non vinciamo dal 2010. Ma soprattutto sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, ma soprattutto maggiormente fai vincere l'Inter. La sfida nello stadio Meazza di Milano di oggi pomeriggio alle ore 15 contro il Genova di Ballardini sembrerebbe, sottolineo, sembrerebbe, cari fratelli e sorelle nerazzurre, abbastanza agevole, ma la squadra Fligure, da quando è tornato l'es allenatore, ha racimolato un sacco di punti e messo in difficoltà molte squadre. Si spera che i nostri ragazzi non debbano avere bisogno di aiuti ultraterreni, ma conoscendo la storia della squadra nerazzurra è sempre meglio chiedere comunque un piccolissimo aiuto al Signore, anche per partite come questa che sembrano essere tranquille e poi si rivelano un incubo inaspettato. E non lasciamoci ingannare dalla gara vinta 2-0 all'andata, era un altro Genova che comunque, nonostante i due gol segnati, che gli abbia segnato, non ci lasciò a tantissime occasioni. Oltretutto temo che farà oggi pomeriggio qualche magheggio, qualche invenzione per metterci in difficoltà. Quindi i nostri giocatori dovranno essere bravi a sfruttare tutte le palle gol disponibili, perché non penso che ne avremo tantissime. Temo che Ballardini avrà studiato la squadra di Conte e avrà sicuramente preparato un po' di contromosse per metterla a punto in gravi ambasce e chiudergli gli spazi per poi magari ripartire in contropiede e cercare di farci male. Quindi avremo bisogno che sia Lautaro che Lukaku, sia tutti gli altri giocatori, siano al top, del top, del top. Inoltre mancherà Hakimi, l'unico che con le sue accelerazioni può mettere in difficoltà le difese avversarie. Ed Armia, per quanto ogni volta sia stato chiamato in causa, abbia fatto non bene ma benissimo, non è purtroppo il giocatore marocchino. In ogni caso, signore, dacci oggi la nostra vittoria settimanale e rimetti a noi i nostri tre punti, come noi li rimettiamo alla nostra classifica, in modo da poter sfruttare appieno il fatto che la Lazio ha perso, la Juventus pareggiato e Roma-Milan si toglieranno punti a vicenda affrontandosi questa sera all'Olimpico e una nostra eventuale giusta vittoria con il Genoa ci permetterà di mettere ancora un po' di punti tra noi e le nostre avversarie e di mantenere minimo i quattro punti sui cugini qualora maloguertamente dovessero vincere contro i lupacchiotti. Anche se, sinceramente, se sono quelli visti con la stella rossa in Europa League, dovrebbe essere la squadra giallorossa e dei lupacchiotti romani a farsi gol da sola per farli segnare. Ma purtroppo, conoscendo ahimè anche la Roma, sono pure capaci di questi miracoli al contrario. Naturalmente, con noi non lo fanno mai. non ci indurre in Serie B, ma liberaci dalla sconfitta contro il Genoa, mi sono morsicato la lingua, scusami signora, e anche dal pareggio, ma soprattutto, qualora ci fosse la possibilità di far segnare un paio di gol al nostro omone, Luca Cone, in modo che continui a inseguire nel CR7, sia nella classifica Cannonieri-Nostrana, sia per la conquista della Scarpa d'Oro a fine campionato. Visto che l'anno scorso è stato eletto miglior giocatore dell'Europa League, essere Scarpa d'Oro quest'anno sarebbe cosa buona e giusta per il nostro Big Rom. Amen. Bene, cari fratelli e sorelle Nerazzurro, il nostro momento di raccoglimento è finito. Potete andare in pace, vi mando la mia benedizione. Come sempre, rinnovo il consiglio che vi sto dando da tanto tempo e che funziona sempre, quindi non sto a spiegarvene l'uso che ne potete fare, perché ormai ve l'ho già spiegato tante volte, ma vado solo a dirvi qual è che è il metodo di padre Pedro, alias Paspencer, imporgi l'altra guancia. Quando vi sta per scappare la parolina, la ciribiricoccola come cantava qualcuno, voi dovete semplicemente stopparvi e dire la classica tiritera. San Camillo, San Camillo, fammi stare un po' tranquillo, San Tommaso, San Tommaso, or mi viene la mosca al naso, San Clemente, San Clemente, fa che sia appunto paziente, che se perdo la pazienza devo fare penitenza. Bene, cari fratelli e sorelle nerazzurre, io vi saluto e vi ringrazio, vi rimando ancora la mia benedizione, speriamo che le prossime partite dell'Inter ci regalino altre due vittorie, anche con la benedizione di nostro Signore, e ci vediamo la settimana prossima. Amen. Anzi, forse settimana prossima non potremo perché l'Inter gioca di lunedì e sapete benissimo che il Signore al lunedì non può intervenire, però magari la preghierina di ringraziamento si fa lo stesso. Amen.